Vicesindaco, innanzitutto qual è la situazione per quanto riguarda sfollati e soprattutto le attività economiche? Allora, intanto vi ringrazio e dico questo perché la gente ci chiede questo. Quando arrivano i sopralluoghi a casa? Allora, intanto è stato completato tutto il triage o quasi dei vigili del fuoco. Il triage praticamente funziona esattamente come il codice rosso, arancione, verde dell'ospedale. E quindi vengono assegnati dai vigili del fuoco dei codici rossi e quindi si passa immediatamente o all'ordinanza di sgombero immediata oppure si invitano i cittadini ad uscire in attesa che il genio civile passi per la valutazione del danno e la consegna dell'agibilità o meno, cioè la cosiddetta scheda AIDES. Noi abbiamo istituito in comune un servizio che è attivo anche da domani mattina e domani pomeriggio. Si può andare a chiedere e fare domanda per la valutazione del danno tutti i cittadini del nostro comune, coloro che hanno immaginato o vedono un danno chiaramente abbastanza evidente. E quindi aspettate perché vengono assegnate delle priorità sulla base di quello che dicono i vigili del fuoco e sulla base dei nostri servizi sociali che hanno attenzionato immediatamente le persone più fragili. Ad oggi 20 sono le condizioni in trattazione e in trattamento e che erano già in parte attenzionate e che ora lo sono diventate ancora di più, sono nate nuove situazioni. Altro è la situazione commerciale e imprenditoriale. Allora, i capannoni delle grandi aziende sembrano al momento intatti e hanno continuato a lavorare. Il problema invece è la vita del paese. Tutto si svolgeva sulla via Leonardo da Vinci che è stata la via oggetto di quell'effetto bordo del catino che dopo vi dirò e che ha detto non dessi. Ora è stata la via più colpita e quindi tutte le attività commerciali erano lì. Parliamo di 13 attività commerciali e sembra che forse solo il negozio della gioielleria si sia salvato. E questo significa che il 99% delle attività non è il numero 13 in senso assoluto, è la percentuale, cioè la totalità. E anche con il simbolo morale del campanile che sta per venire giù e adesso si sta lavorando uno per salvarlo ed evitare il transennamento della strada e due perché va salvato il simbolo del paese, la nostra chiesa, il ritrovo di tutta la comunità. Il fatto che il campanile si sia spostato solo ora e non tutti i terremoti che invece abbiamo subito negli anni precedenti la dice lunga. Su cosa? Sul fatto che un terremoto non può essere valutato dalla magnitudo. Il fatto che noi abbiamo adesso convocato questa conferenza stampa lo abbiamo fatto per un motivo ben preciso. L'attenzione mediatica a cui vi ringraziamo non può essere abbassata perché fino a che noi non otteniamo il via libera da parte del governo e quindi per la richiesta dello Stato, per lo Stato, la proclamazione dello Stato di emergenza noi non molleremo. Lo Stato di emergenza, se il terremoto fosse stato di 5, sarebbe stato già attivato. Perché chiediamo lo Stato di emergenza? Perché chiediamo alla Presidente Tesei di venire qui ad Umbertide e dire, come ha detto, che stanno preparando la relazione, deve essere una relazione corposa, ci stanno lavorando i dirigenti per renderla imponente, perché dobbiamo convincere la legge del nostro Stato ad essere modificata e quindi il governo. Tutto questo mi sembra già assurdo, però questo è. Allora lavoriamo su due fronti, gestiamo l'emergenza e pensiamo al dopo. E questi due fronti devono viaggiare paralleli, velocissimi e paralleli. Un terremoto che ha spostato il campanile è un terremoto che sulla scala Mercalli chiaramente sarebbe altissimo. Su la magnitudo no. Ci ha spiegato Nodessi che Pierantonio vive su un terreno di tipo alluvionale, quindi non roccioso, la roccia va a spegnere l'onda d'urto, invece il terreno alluvionale chiaramente lo propaga. E Pierantonio si trova ai bordi di una collina che gli ha fatto l'effetto bordo, si chiama proprio così. Quindi noi abbiamo beccato l'onda maggiore, esattamente come quando si mette un sassolino in mezzo a una bacinella di acqua e al bordo l'onda è maggiore, molto più alta, sbatte e torna indietro. E noi ci siamo beccati questo. E quindi le case di tutta la via Leonardo da Vinci e la parte leggermente superiore sono lesionate praticamente il 90% delle abitazioni. A queste persone non possiamo dare risposte col bilancio comunale, non possiamo dare risposte seppur attive a tutti i GoFoundMe e alle raccolte fondi della Proloco di Pierantonio. Qui serviva un numero di emergenta nazionale subito e qui faccio un appello. C'è un ministro, che è il ministro della protezione civile, al quale chiedo di venire ad un vertile. Siamo in un'emergenza, non è dichiarata mai un'emergenza, c'è stato un terremoto, non mi risultano altri terremoti in Italia oggi, ieri, l'altro ieri, chiedo di venire qui al ministro su questo tavolo, parlare con noi e prendersi in carico la cosa. Pur ringraziandolo di tutto il lavoro che i suoi volontari stanno facendo, i suoi dirigenti, come partire da Stefano Nodessi, Barbara Toccacieli che sta facendo un lavoro straordinario di coordinamento infinito, Gabriele Lisetti, il nostro Gabriele Lisetti, sono straordinari. Chiedo al ministro di venire qua. Grazie.